I lavori di rifacimento di Salita Izzone a Teramo in pieno centro storico sono iniziati 13 mesi fa ma sono bloccati da tanto tempo. Come potete vedere dalle immagini il cantiere all'abbandono all'interno dell'area di cantiere è cresciuta l'erba e la parte riservata ai pedoni è anche stretta e pericolosa. Salita Izzone è quella strada che porta da Porta Romana via Trento e Trieste si trova dunque in una zona molto centrale di Teramo a due passi da Piazza Dante ma anche molto vicina a Piazza Martiri della Libertà. I cittadini ci hanno segnalato questo problema perché dicono è indecoroso avere un cantiere all'interno della città ed è poi anche questa strada come dicevamo e come ci riferiscono i cittadini che abitano in questo quartiere è anche pericolosa. L'appello è all'amministrazione comunale di Teramo di far ripartire il prima possibile i lavori soprattutto per tutelare l'incolumità della gente che in questa strada è anche costretta a passare per tornare a casa. Che la via sia pericolosa lo dimostra anche un fatto accaduto alcuni giorni fa. Una signora ci ha raccontato è caduta all'imbocco proprio della via dove c'è anche il brecciolino facendosi male soprattutto all'occhio. E sta diventando anche un problema igienico perché ci dicono che quotidianamente salgono e scendono anche dei ratti da questa strada.